Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con ALB, io sono Giovanni Sterrantino, buonasera e questa sera andremo a parlare di materie prime e della situazione geopolitica che si sta delineando a livello globale, viste quelle che sono le ultime novità. Allora, intanto ringrazio ancora una volta il Broker ALB per averci dato l'opportunità di essere presenti sulla piattaforma di investing e anche sul nostro canale per poter parlare anche di questo argomento. Ricordo quello che il nostro Broker ALB, che trovate qui al seguente indirizzo, chiaramente Broker regolamentato qui a Malta tramite la MFSA, la Malta Financial Service Authority, per tutti coloro che chiaramente ci ascoltano dall'Italia, è ovviamente registrato presso la Consub, quindi l'autorità nazionale per quanto riguarda le società e la borsa in generale. Allora, in questo appuntamento mi premeva andare un attimino a parlare di cosa sta succedendo nel fronte orientale del nostro continente, dell'Europa, e quale tipo di impatto questi eventi possono avere per l'appunto sulle materie prime, in particolare sul gas naturale e sul petrolio, che sono ecco diciamo i prodotti che hanno risentito più di tutti in questi ultimi periodi di quelle che sono state le movimentazioni, e che potrebbero presentare delle importanti opportunità di mercato, ma al tempo stesso se gli eventi non si leggono nel modo giusto, magari con le giuste informazioni, possono rappresentare sicuramente degli enormi rischi per quanto riguarda l'attività di trading. Allora, intanto vorrei fare una piccola analisi, un piccolo escurso storico per capire come siamo arrivati a questa situazione. Allora, la guerra in Ucraina è stato fondamentalmente un evento che gli analisti, sia politici, sia geostrategici, non ritenevano probabile, proprio perché questo avrebbe avuto delle conseguenze enormi di cambiamento a livello, anche mondiale possiamo dire, ma sicuramente a livello europeo, però ecco diciamo è successo lo stesso, è avvenuto per ragioni di sicurezza, e la Russia tende in questa fase a proteggere quelli che sono i propri confini dall'arrivo, ecco diciamo, insomma questo è il loro timore della Nato, insomma in sostanza il blocco occidentale, capeggiato dagli Stati Uniti dove ci siamo anche noi, che arrivasse praticamente troppo vicino alle porte di casa. Quindi questo probabile ingresso della Nato, o meglio l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e successivamente nella Nato, come è stato chiaramente per tutti gli altri ex paesi del blocco sovietico, Polonia, Romania, Bulgaria, tutti i paesi baltici, hanno ecco diciamo negli anni passati fatto questa scelta di campo, quindi passare dal fronte orientale al fronte occidentale. E questo ecco diciamo ha scatenato ecco questa guerra che anche se non è ancora conclusa, non sappiamo come potrebbe ecco andare a concludersi, le forze in campo ecco diciamo sono abbastanza impari, ecco diciamo quindi anzi per alcuni è anche un po' una sorpresa che ancora oggi dopo praticamente quasi un mese si parli ecco di ancora conflitti nelle città principali, quindi che fondamentalmente hanno resistito fino a oggi ma indipendentemente da come andrà a finire questo conflitto ci sono già comunque degli elementi che ci fanno riflettere su quello che può essere il nuovo equilibrio che si viene a creare a livello politico e che quindi poi avrà anche sicuramente delle ripercussioni sui mercati. Allora la prima notizia fondamentale è che comunque la Russia prima della guerra aveva dei fortissimi legami commerciali con i paesi dell'Europa centrale, in primis con la Germania in quanto fondamentalmente Germania e Russia sono ecco diciamo un team di paesi dove uno possiede l'industria, l'altro possiede le materie prime. Quindi è ovvio che in una situazione di reciproco interesse queste due vadano ecco diciamo a collaborare. Il progetto ecco diciamo di cui abbiamo sentito parlare molto spesso è che anche ecco diciamo negli ultimi giorni è stato anche su tutti i giornali proprio il Nord Stream 2 chiamato anche dai polacchi in modo un po' ironico ma anche ecco diciamo polemico il gasdotto Molotov von Ribbentrop in ricordo ecco diciamo del più famoso patto del 1939 fra russi e tedeschi che aveva proprio la funzione di trasportare il gas naturale direttamente dalla Siberia quindi da dove sono presenti i fortissimi ecco diciamo e amplissimi giacimenti di gas direttamente in Europa, in Germania bypassando praticamente tutti quegli stati che man mano hanno aderito al blocco NATO quindi passare direttamente attraverso il Baltico sotto il mare e arrivare da Viborg città vicino alla Finlandia in Russia vicino alla Finlandia fino direttamente alla Germania e da lì poi essere praticamente smistato in tutto il continente l'Europa è fondamentalmente il cuore diciamo del gas naturale perché i paesi che sono ecco diciamo più consumatori ecco diciamo di questo prodotto sono appunto i paesi europei intanto perché sono ecco diciamo paesi che sono mediamente benestanti quindi ecco sono insomma nelle nostre abitazioni siamo tutti abituati anche ecco diciamo nella nostra vita quotidiana a essere a contatto appunto con questo tipo di prodotto è molto difficile ecco diciamo ormai poterne farne a meno quindi la richiesta è molto alta soprattutto nella stagione invernale chiaramente quindi questo ora lo andremo anche a vedere tramite il grafico questo prodotto si caratterizza proprio per la stagionalità in quanto ecco diciamo è bene o male prevedibile che nei periodi in cui l'inverno si avvicina quindi da settembre-ottobre la domanda inizi chiaramente a crescere quindi di conseguenza anche il prezzo vada ecco diciamo a crescere per poi ecco abbassarsi e scendere a dei livelli minimi chiaramente all'arrivo comunque nel periodo estivo vedremo che quest'anno potrebbe essere anche differente questo discorso proprio per quello che potrebbe succedere e quindi ecco diciamo tramite queste condutture come dicevamo dalla Russia arriva ben il 34% di quello che è il gas che viene consumato nei mercati europei fondamentalmente quindi nei paesi europei che cosa si è delineato quindi? alcuni punti che bisogna ecco diciamo riflettere si è delineata una spaccatura fra i paesi che prima commerciavano ampiamente con la Russia per motivi energetici in primis noi, Italia e la Germania ma potrei ecco citarne anche altre e dall'altro lato chiaramente il blocco dei paesi che appoggiano in questo caso la Russia che sono tutti i paesi ecco diciamo dell'ex blocco sovietico quindi Bielorussia, Kazakistan, Cina ecco diciamo con un ruolo un po' ambiguo ma anche loro ecco diciamo non sono sicuramente nel nostro stiramento anzi e di conseguenza questo blocco che si è venuto a creare sembra ecco diciamo andare a presagire una nuova guerra fredda che potrebbe anche chiaramente avere ripercussioni economiche perché? Perché ci sono le sanzioni economiche che sono al vaglio della Nato comunque dei paesi del blocco occidentale e queste sanzioni puntano addirittura a estromettere le banche russe dal sistema SWIFT cioè il sistema dei pagamenti internazionali cioè ossia sarebbe impossibile commerciare con questi paesi proprio perché per comprare questi prodotti bisognerebbe praticamente andare e pagare in contanti quindi una roba praticamente difficilmente fattibile soprattutto anche perché parliamo di scambi ogni anno di miliardi e miliardi di dollari quindi ecco diciamo un'estromissione del genere sarebbe ecco diciamo un punto di rottura che potrebbe anche eventualmente sfociare in un conflitto armato anche di più grossa portata veramente noi ci auguriamo di no però è a oggi una possibilità e qualora non si arrivi ecco diciamo a una soluzione condivisa e utile ecco diciamo per le parti di questo conflitto ci è arrivata anche questa notizia che sicuramente avrete sentito previsione del governo russo petrolio a 300 dollari a barile è apparsa praticamente su tutti i giornali sicuramente l'avrete ecco diciamo anche notata allora questa è un po' una mossa intimidatoria perché comunque ecco diciamo è un modo per dire da parte ecco dei russi cioè se voi non vi accordate con noi noi possiamo utilizzare questo quest'arma chiaramente per mettervi sotto pressione per mettervi in crisi perché fondamentalmente come loro hanno bisogno di vendere petrolio noi chiaramente abbiamo bisogno di acquistarlo stessa cosa per il gas ecco dicevamo l'unica differenza è che il gas è un prodotto più stagionale quindi ecco diciamo possiamo eventualmente farne a meno in parte chiaramente nei periodi ecco diciamo estivi che da noi corrispondono all'estate ma il petrolio invece no è una dipendenza che dobbiamo ecco necessariamente soddisfare 12 mesi all'anno 365 giorni all'anno quindi ecco diciamo questo già è un problema anche perché oltre ecco diciamo al discorso del petrolio a 300 dollari che comunque anche se non dovesse arrivare se non ci fossero ecco diciamo questi eventi che adesso andiamo a vedere ma è anche auspicabile che un aggravarsi della crisi lo spinga come possiamo ecco diciamo andiamo un attimo sul nostro grafico di ALB dove ecco abbiamo in questo caso il US Oil cioè il petrolio WTI in questo caso vedete allora dall'inizio della crisi vedete praticamente si è praticamente attestato a un livello massimo che possiamo vedere in questo caso di 130 dollari più o meno al barile adesso siamo a 109 allora questo è stato un movimento chiaramente molto volatile molto repentino che c'è stato praticamente soprattutto i primi giorni è stato un sicuramente un qualcosa di molto gradevole perché chiaramente ecco diciamo era a mercato su questi prodotti ma fosse stato ecco diciamo nella direzione sbagliata avrebbe portato sicuramente a delle perdite importanti quindi ecco diciamo in questi momenti sono dei momenti in cui bisogna a mio giudizio prima di andare a fare delle operazioni capire bene cosa sta succedendo e quelle che possono essere chiaramente le previsioni che si possono fare e di conseguenza andare a impostare un'operatività chiaramente attività di trading comporta sicuramente dei rischi perché se no ecco diciamo non sarebbe un investimento sarebbe ecco diciamo semplicemente un guadagno però ecco diciamo un conto è rischiare facendo ecco diciamo delle valutazioni avendo comunque degli elementi di base un conto è lanciarsi magari a capofitto e magari andare a sbattere quindi ecco diciamo questo è sicuramente è un qualcosa ecco diciamo che io personalmente non mi sento di consigliare ma la domanda alla fine è questa è veramente possibile che si arrivi ecco diciamo a un prezzo mai visto prima quindi a questi famosi 250 o addirittura 300 dollari a barile allora in questo caso ecco converrebbe analizzare due fattori allora abbiamo detto per avere un rialzo ecco diciamo del prezzo bisognerebbe avere o un blocco della produzione in questo caso un eventuale ban quindi un eventuale sanzione totale nei confronti di questo mercato che rappresenta il 34% delle importazioni in Europa sicuramente potrebbe essere ma sono presenti degli altri produttori che eventualmente potrebbero compensare quelle che sono queste mancanze di mercato quindi andare a inserire una parte ecco diciamo della loro produzione e andare a prendere queste quote di mercato che verrebbero lasciate la risposta a oggi ecco diciamo è più sul no veramente perché intanto ecco diciamo la produzione OPEC è già ai massimi paesi OPEC ecco diciamo lo vediamo anche tranquillamente in questa mappa sono fondamentalmente quelli che sono in blu scuro appunto gli altri ecco diciamo fanno parte di OPEC più ma ecco fondamentalmente sono treggi quindi sono paesi medio orientali che sono già stati ampiamente sotto pressione guidati fondamentalmente dall'Arabia Saudita che ha già dichiarato più volte che sono già a un milione di barili di produzione al giorno e quindi difficilmente si potrebbe andare a sostenere una produzione ancora maggiore per cercare di frenare quelli che sono le salite dei prezzi detto questo un altro grande elemento è sicuramente quello politico cioè il discorso è sicuramente chi è che preme più per queste sanzioni quindi chi è che ha più potere negoziale in questo caso abbiamo Stati Uniti e Regno Unito che sono per una linea dura quindi la Nato è spaccata abbiamo USA e Regno Unito per una linea dura se fosse per loro da domani ci sarebbe diciamo il blocco totale l'estromissione da SWIFT per la Russia mentre invece i paesi europei quindi Germania e Italia in primis fanno opposizione proprio perché perché appunto noi importiamo una grandissima parte di materie prime e quindi questo blocco andrebbe a danneggiare soprattutto noi che non abbiamo una produzione interna e che quindi saremmo i primi esposti e questo sicuramente in caso di blocco avrebbe sicuramente un evento un come dire un effetto a catena anche su altri settori gli indici di borsa sono sicuramente i primi che ne verrebbero ecco diciamo condizionati in secondo luogo quindi non avendo chiaramente delle alternative alla produzione e quindi come paesi produttori quindi non abbiamo oggi dei dati che ci permettano di andare a capire se qualche altro attore potrebbe effettivamente subentrare e compensare quelle che sono queste mancanze non esiste perché perché chiaramente il gas così come il petrolio non è che lo si fa da un giorno o un mese all'altro ecco diciamo un giacimento o l'attivazione di una produzione è una filiera molto lunga cioè solo andare a cercare quindi per estrarre questi prodotti è un procedimento che può impiegare anni che non bisogna solo trovare una sorgente per così dire bisogna anche capire quale dimensione questa sorgente possa avere e fare delle stime di produzione e poi su queste stime costruire tutto quello che è la filiera quindi i vari tubi i vari ecco diciamo silos di stoccaggio tutto quello che poi chiaramente trascina la materia prima dalle zone in cui ecco diciamo è presente fino poi ai centri ecco diciamo di smistamento e poi anche chiaramente viene inserito poi nel mercato quindi ecco diciamo il fatto che possa anche essere commercializzato quindi ecco diciamo questo è un procedimento molto lungo e sicuramente la situazione da qui all'estate o comunque proprio per essere larghi ma potrebbe essere anche molto prima perché chiaramente questa situazione è non voluta da più parti è un rischio per tutti potrebbe anche ecco diciamo andarsi a risolvere molto prima quindi ecco diciamo non abbiamo oggi un'alternativa effettivamente a quello che sta succedendo quindi a questi paesi produttori quindi del blocco ex sovietico e di conseguenza qualora ci fosse un eventuale ban saremmo sicuramente con una mancanza del 30% di produzione che non avremmo almeno nel brevissimo termine modo di andare ecco diciamo a compensare e quindi in questa eventualità allora sì allora ecco diciamo il petrolio in questa eventualità potrebbe ecco diciamo crescere e arrivare a dei livelli molto alti e quindi ecco diciamo rappresentare un'ottima magari opportunità di investimento per tutti coloro che investono magari qui ovviamente su Alba oltre che le materie prime sono anche presenti etf comunque ecco diciamo azioni di compagnie petrolifere quindi che molto probabilmente verranno influenzati potrebbero essere magari delle ottime opportunità possennoli poi di andare a sfruttare i rischi sono semplicemente la cattiva lettura di quelli che possono essere gli eventi cioè bisogna ecco diciamo capire e seguire bene quelle che saranno le mosse politiche perché da lì deriverà tutto cioè in sostanza qualora si dovesse passare a una situazione di chiusura definitiva e quindi di come dire scontro muro contro muro fra russi da una parte e noi occidentali dall'altra allora questo è uno scenario che sarebbe molto molto probabile qual è l'altro scenario l'altro scenario è semplicemente uno scenario un pochino più ecco diciamo auspicabile dal nostro punto di vista che in nome degli affari in nome diciamo del insomma del reciproco interesse addirittura della reciproca sopravvivenza si arrivi effettivamente a una qualche forma di accordo oltre chiaramente che a qualche accordo di natura politica per quanto riguarda le zone che sono ecco diciamo state colpite dal dalla guerra appunto ma soprattutto un accordo cioè che non blocchi quelle che sono le forniture di materie prime e quindi in quel caso allora noi sicuramente potremmo non solo non assistere a quelli che sono questi rialzi che sono stati paventati ma addirittura poter vedere anche dei ribassi perché comunque a oggi la produzione non è stata interrotta quindi ha continuato tranquillamente ecco diciamo a fare il suo corso anzi addirittura è stato anche bloccato il gasdotto di cui parlavamo prima il gasdotto nord stream 2 quello che passa sotto il baltico è stato autobloccato dai tedeschi al fine di poter essere messo al riparo da eventuali sanzioni e blocchi che sarebbero stati messi proprio perché non ancora in funzione è stato praticamente ultimato giusto qualche mese fa quindi ecco nemmeno a farlo apposta praticamente non appena questo ecco diciamo questa grande autostrada del gas era pronta gli eventi sono precipitati e quindi non è stato nemmeno possibile andarlo a inaugurare quindi al fine di prevenire una ipotetica ecco diciamo blocco ecco diciamo di questo strumento è stato non messo direttamente in funzione al fine ecco diciamo di preservarlo magari per tempi migliori allora poi ultimo ecco diciamo ultimo anche aspetto che conviene ecco diciamo sempre tenere presente in questo discorso è quello chiaramente che se noi andiamo a fare un elenco di quelli che sono i paesi produttori per esempio di petrolio io ecco diciamo ho preso ecco questo piccolo elenco insomma che tutti noi possiamo consultare la fonte vedete la conosciamo tutti vediamo praticamente questa piccola heat parade praticamente dei paesi per produzione di petrolio i paesi OPEC sono ecco diciamo vedete sono ecco diciamo marcati da da questa scritta fra parentesi e quindi ecco come vedete anche questo anche questa piccola classifica ci fa un attimino riflettere cioè vedete praticamente la Russia ce la troviamo al secondo posto per produzione leggermente superiore all'Arabia Saudita cioè quindi ecco diciamo estromettere un paese del genere cioè nel senso privare questo paese di commerciare in sostanza con tutti gli altri attori che sono presenti sul mercato sarebbe un qualcosa effettivamente di terribile cioè nel senso significherebbe veramente delle conseguenze ma 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 non solo economiche cioè avrebbero delle conseguenze praticamente su tutti i mercati a ruota quindi non ci sarebbe mercato che non sarebbe ecco diciamo travolto quindi eh la situazione ecco diciamo è molto particolare molto particolare perché eh noi ecco diciamo negli ultimi anni abbiamo visto eh parecchi eventi che chiaramente hanno avuto un impatto devastante sia sulle nostre vite che proprio sui mercati ecco diciamo io eh sono presente ecco diciamo come operatore da diversi anni in questo settore eh insomma ecco diciamo quello che si è visto ora ecco diciamo difficilmente si sarebbe visto ecco diciamo magari dieci quindici anni fa rispetto a quello che succedeva eh questa fase è molto molto interessante in alve vorrei ecco diciamo spendere anche due parole perché poi chiaramente eh il punto non è solo la conoscenza ecco diciamo in quanto conoscenza e anche chiaramente da insomma investitori ecco diciamo al dettaglio che o professionali che possiamo essere ecco diciamo tutti eh capire semplicemente come sfruttare queste notizie per ecco diciamo ottenere eventualmente eh un qualcosa ecco diciamo un ritorno ecco diciamo che poi chiaramente può essere può essere tanto può essere poco questo chiaramente dipende da tante variabili dipende eh intanto ecco diciamo da quelli che sono le possibilità perché chiaramente per tradare questi prodotti bisogna ecco diciamo avere anche delle disponibilità chiaramente economiche che ci permettano ecco di eh entrare al mercato e di farlo chiaramente in sicurezza perché chiaramente chi conosce queste attività sa benissimo che eh è molto importante chiaramente non solo avere ecco diciamo quello che è un saldo quindi un margine operativo effettivamente quindi una potenza diciamo per entrare al mercato quindi e posizionarsi nei vari titoli ma a volte ecco diciamo sono i mercati oppure meglio sono sempre i mercati che ci dicono eh che decidono ecco quando eh le nostre operazioni possano ecco diciamo essere profittevoli e quindi non è solo il punto di entrare al mercato e poi magari eh uscire ecco diciamo subito quindi o la va o la spacca il punto diciamo è fare un investimento quindi cercare di stare al mercato con cognizione di causa per cercare chiaramente di sfruttare un movimento possibile che può avvenire ok quindi ecco diciamo poi fondamentalmente sono i mercati che stabiliscono quanto eh possa essere l'operazione se l'operazione vada bene o vada male quello che possiamo fare noi è cercare semplicemente di posizionarci nel modo più intelligente possibile cioè cercando magari di limitare eventuali danni che si possono andare a creare qualora chiaramente eh le nostre previsioni o comunque quello che noi abbiamo discusso non si dovesse avverare in questo caso diciamo fondamentalmente abbiamo fatto due ipotesi ecco l'ipotesi praticamente più dura più drastica che poi anche quella insomma che eh umanamente ci non ci aspettiamo non vorremmo mai vedere e poi ecco diciamo un'ipotesi un pochino più cruda un pochino ecco diciamo magari non tanto carina dal punto di vista etico però magari molto più ecco diciamo soddisfacente dal punto di vista ecco diciamo ecco diciamo personale quindi ecco diciamo quest'anno qualora ecco si dovesse avere un eventuale blocco potremmo assistere per la prima volta magari alla non stagionalità di quello che è il gas naturale per esempio se noi prendiamo passiamo un attimino su investing prendiamo ecco diciamo il gas naturale che noi possiamo vedere qui mettiamo anche un grafico o giornaliero o settimanale insomma va benissimo anche mensile se poi volete ecco diciamo avere uno sguardo nel corso degli anni vedete che cosa praticamente vedete che il gas naturale fa proprio questo andamento qui c'è praticamente quello che diciamo prima la crescita ecco diciamo nei periodi invernali e poi la discesa chiaramente nei periodi estivi però guardate qui c'è una zona che è parecchio interessante questa che sto praticamente evidenziando questo è praticamente lo scorso massimo che si è avuto sul prezzo del gas allora se noi andiamo praticamente in corrispondenza di questo momento storico possiamo vedere che eravamo nel 2014 quindi nell'inverno 2014 allora che cosa è successo nel 2014 per chi se lo ricorda è successo proprio l'invasione russa della Crimea cioè nel senso praticamente la prima parte della crisi che noi stiamo vivendo oggi non è altro che il secondo round se mi passate il termine di una crisi che si è dirignata nel 2014 quando l'Ucraina che era guidata da un governo filorusso tramite una fra virgolette rivoluzione di popolo decise di sostituire il governo filorusso con un governo filo occidentale fondamentalmente quindi decise di cambiare schieramento e di passare praticamente comunque di iniziare quelle che che furono poi ecco diciamo le pratiche di adesione per un'Unione Europea è nato come abbiamo detto la Russia cosa ha fatto ecco diciamo ha utilizzato quest'arma quindi ha bloccato le forniture di gas naturale proprio per spingere il prezzo verso l'alto e quindi mettere in crisi chiaramente le economie occidentali come mossa chiaramente di rappresaglia e vedete poi nel corso degli ultimi anni non c'è stato a parte ecco diciamo questo piccolo ecco diciamo momento nel 2016 causato ecco diciamo da una ecco diciamo da un'altissima domanda dovuta ecco diciamo all'arrivo praticamente fuori stagione dei temperature ecco diciamo molto basse quindi ecco diciamo in questo caso le motivazioni sono diverse però le motivazioni politiche vedete che noi vediamo qui le vediamo praticamente anche quest'anno con ecco l'ultima parte ecco diciamo di questo grafico quindi ecco diciamo fondamentalmente quest'anno potremmo assistere nel caso in cui la situazione non dovesse risolversi e dovesse degenerare quindi a un prezzo ampiamente sopra mercato per quelle che chiaramente sono le tendenze stagionali del gas quindi anche con l'arrivo della primavera e potrebbe essere anche dell'estate quindi nel medio lungo termine potrebbero sicuramente essere delle opportunità da andare a sfruttare insomma sulle varie piattaforme perché chiaramente non ne ha una invito anche a prendere in considerazione la piattaforma ALV che in quanto a materie prime è abbastanza interessante e mi permette ecco diciamo di fare questa parentesi poi ecco diciamo magari passiamo a qualche domanda è abbastanza interessante perché perché ecco diciamo come tutte le piattaforme chiaramente nella home page che ecco diciamo noi abbiamo qui presente possiamo ecco vedere in basso quelle che sono non solo i mercati dove siamo presenti ma anche poi effettivamente le condizioni di trading cioè nel senso quelle che sono poi le condizioni alle quali ecco diciamo l'utente va a fare trading bene ALV ecco diciamo su indici e su materie prime fra cui ovviamente i prodotti energetici non ha debita costi di swap sulle posizioni di trading quindi nel caso in cui una persona volesse fare un'operatività anche di medio o lungo periodo comunque non andrebbe in nessun modo ad avere ecco diciamo dei costi aggiuntivi quindi gli unici costi sono ecco diciamo quelli di spread e quelli chiaramente delle commissioni che sono presenti su tutte le piattaforme però in un discorso di lungo periodo chiaramente qui rispetto magari ad altri broker può essere molto più conveniente proprio perché si va comunque a risparmiare sul lungo periodo dalla tenuta ecco diciamo delle posizioni lo swap ovviamente per chi non lo sapesse è quel meccanismo che ogni notte con il ricalcolo della posizione viene addebitata o accreditata dipende chiaramente dal prodotto una somma che in quel caso ecco diciamo viene effettivamente calcolata in base a quella che è l'esposizione quindi in sostanza di solito nelle piattaforme di trading più si sta a mercato più ci sono dei costi infatti ecco diciamo le piattaforme nascono effettivamente per un'operatività di breve medio periodo ecco proprio il CFD che sono i prodotti che voi troverete nella nostra piattaforma sono ecco diciamo pensati in questo modo allora ecco diciamo io passerei a qualche domanda che ecco sono nel frattempo arrivate tramite anche i nostri canali social mentre parlavo mi è caduto l'occhio su due ecco diciamo vorrei ecco diciamo rispondere personalmente perché insomma le trovo abbastanza carine allora ci scrive Michele quanto durerà la guerra secondo gli analisti e quanto può influire sugli indici europei allora quanto durerà la guerra non lo sa nessuno chiaramente quindi ecco diciamo su questo non è possibile ovviamente fare delle previsioni lo sa Putin eventualmente quello che ha intenzione di fare quindi noi ecco diciamo per il momento possiamo solo prevedere che comunque in qualunque modo vada a finire ci saranno degli effetti che potranno essere sia devastanti con la prima opportunità che abbiamo ecco diciamo esaminato oppure un attimino più contenuti ma comunque sempre potenzialmente pericolosi e sugli indici europei potrebbero essere travolti fondamentalmente perché un'economia come quella tedesca o comunque come quella italiana che è agganciata con la tedesca e il nord Italia fondamentalmente è collegato con la rete industriale della Germania anche a livello produttivo sicuramente un deteriorarsi della situazione geopolitica avrebbe un impatto negativissimo molto molto devastante ancora più di quello che ha avuto all'inizio ecco diciamo delle ostilità andiamo un attimo in piattaforma così magari Michele può anche visionare un attimino quello di cui stiamo parlando allora vedi ecco parlo proprio di questo vedi praticamente questo è diciamo l'andamento del DAX che ecco diciamo nel corso degli ultimi mesi si ecco fondamentalmente si è sempre mantenuto a dei livelli ecco diciamo abbastanza interessanti vedi comunque c'è stato comunque nel corso del tempo che chiaramente oscillazioni varie dovute a motivi più diversi però vedi praticamente al giorno guarda di 24 che corrisponde esattamente a questo punto guarda dove siamo poi andati a finire quindi c'è stata praticamente un crollo di oltre 2500 punti praticamente quindi nel caso in cui ci dovessero essere comunque delle situazioni di pericolo sicuramente Indici Europei sarebbero i primi a essere ecco diciamo messi in pericolo poi seconda domanda se la Nato decidesse di scendere in campo quali conseguenze sui mercati allora in quel caso ci scrive Jessica allora in quel caso guarda se ci fosse questa eventualità io non mi preoccuperei dei mercati ma ecco diciamo mi preoccuperei anche di altro perché insomma sarebbe veramente un qualcosa di insomma che nessuno ecco diciamo si vuole augurare ok allora vediamo se arriva nel frattempo qualche altra domanda nel frattempo ecco diciamo io ritorno nel sito di Alv chiaramente ecco diciamo tutti coloro che si sono iscritti e se lo desiderano possono avere anche l'opportunità di ricevere una consulenza in merito comunque sia alla piattaforma di trading sia all'argomento che è stato trattato in modo anche personale ecco diciamo tramite il nostro staff noi abbiamo ecco diciamo i nostri agenti del supporto clienti che molto probabilmente si metteranno anche in contatto ecco con voi qualora ecco lo desideriate qualora ecco abbiate ecco diciamo dato il consenso appunto a essere contattati di modo tale che magari possano anche effettivamente spiegare a tu per tu come ecco diciamo è possibile intraprendere eventualmente un percorso di trading o eventualmente per chi già possiede una piattaforma o comunque è interessato a qualcosa ecco diciamo in particolare a livello operativo possono ecco diciamo essere utili quindi guidare sia ovviamente all'interno della nostra piattaforma soprattutto sia qualora ci fossero chiaramente delle domande delle perplessità o comunque degli argomenti che vogliono essere ecco diciamo attenzionati ecco diciamo saremo sicuramente contenti di poter ecco essere d'aiuto da questo punto di vista per ripeto tutti coloro che insomma hanno mostrato interesse ok allora mi pare che abbiamo terminato come domanda ecco diciamo non ecco diciamo non vedo insomma altro di particolarmente ecco diciamo urgente o comunque di diverso rispetto a quello che è stato trattato durante questa sessione ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito per insomma ecco diciamo per l'interesse che ci è stato mostrato e anche a volte per insomma ecco diciamo appunto la vicinanza a volte che ci viene anche manifestata quindi vedo anche che tanti coloro che che sono ecco diciamo presenti e sono anche clienti nostri clienti di Albe quindi ecco diciamo mi fa piacere che siano anche presenti noi chiaramente restiamo a disposizione per metterci in contatto con noi basta appunto che potete utilizzare la chat ecco diciamo lasciando ecco diciamo i vostri dati con eventuali domande e insomma da domani nei prossimi giorni saremo ecco diciamo appena possibile e saremo felici di metterci in contatto con voi e di rispondere ringrazio tutti coloro di nuovo che ci hanno seguito e auguro una buona serata alla prossima Grazie a tutti